Volontari ripuliscono porto e litorale di Torre del Greco. In occasione della giornata del mare, la Capitaneria di Portoguardia Costiera di Torre del Greco, di concerto con la locale amministrazione comunale, ha fornito il proprio contributo tecnico operativo alla realizzazione dell'iniziativa ambientale promossa, tra le altre, dalla sezione locale della Lega Navale Italiana e dall'Associazione Prima Aurora. Sin dalle prime ore della mattinata, alcuni gruppi di volontari, in numero estremamente contenuto e nel rispetto delle vigenti disposizioni Covid, si sono adoperati per procedere alla rimozione e differenziazione di rifiuti eventualmente abbandonati nelle aree del Porto Corallino ed in alcune spiagge linitrofe. Il successivo smaltimento dei rifiuti raccolti è stato assicurato ai competenti servizi del Comune di Torre del Greco. Inoltre, nel corso della stessa mattinata, nell'ambito del progetto denominato Marine Litter, del flag litorale Miglio d'Oro, è stata effettuata una dimostrazione pratica del funzionamento del Sea Bean, cestino marino per la raccolta della plastica, e dei banner oleoassorbenti, attrezzature particolarmente innovative per assicurare la pulizia degli specchi acqui, soprattutto in ambito portuale. Nei quattro porti del flag litorale Miglio d'Oro, che sono quelli di Portici, di Ercolano, di Torre del Greco e di Torre Annunziata, sono state installate queste installazioni, che si chiamano Sea Bean, che sfruttano una particolare tecnologia per cui, con un principio fisico, creano un vortice e recuperano plastiche e microplastiche, che poi vengono ogni giorno raccolte dalla SOGEM e quindi c'è un continuo lavoro di smaltimento di queste plastiche nei nostri porti. Poi invece dall'altro lato del porto sono state installate, oltre alla Sea Bean, anche dei banner, che raccolgono invece gli oli esausti, che questa mattina sono stati strizzati sempre per dare una dimostrazione di quello che si sta facendo. Tutte le nuove associazioni, spiegano nel comunicato, abbiamo deciso di rimboccarci le maniche ancora una volta e portare avanti un'attività di riqualificazione di quattro zone simbolo di Torre del Greco, il porto, la scala, la spiaggia delle Terme Ginnasio e la spiaggia del Laghetto. Tra queste è importante ricordare la presenza del liceo scientifico Alfred Nobel di Torre del Greco, per rimarcare ancora di più il ruolo centrale di giovani nel processo di rivalorizzazione della città e di tutela e salvaguardia dell'immenso patrimonio naturalistico ambientale, storico-culturale del nostro territorio.